Un saluto a tutti i trifoni all'ascolto, dunque il Genoa supera il Benevento con il punteggio di 2 a 1, conquista un'altra vittoria, si allunga la striscia dell'oro di Alberto Gilardino ma che fatica in Campania per conquistare un successo che nel primo tempo sembrava in cassaporte, decidono i Bomber, Coda nel primo tempo e Puskas nel secondo, insomma questo Genoa è sempre più padrone del suo destino, direi una vittoria di personalità su un campo difficile contro una squadra che insomma ha dentro dei nomi davvero interessanti. La prestazione del Genoa piuttosto ondivaga, comunque direi senz'altro di personalità, senz'altro molto concreta e alla fine elogiamo l'uomo copertina, il nuovo uomo copertina, ossia Georg Puskas che tramuta in rete nel miglior modo possibile una pennellata d'autore di Sabelli proprio all'ultimo respiro e regala al Genoa un successo che vale punti importantissimi nella corsa alla Serie A. Mandiamo con ordine la formazione di Cannavaro, Schiera, Paleari, Veseli, Capellini e Pastina, El Quachibi, Karic e Schiattarella insieme a Importa e poi Acampora e Ciano a supporto di forte. Il Genoa risponde con un 3-4-2-1, Martinez in Porta e poi il Sanker, Vogliacco e Dragusin con questa difesa a tre. Centrocampo a quattro con Sabelli e Crescito sulle fasce, i centrali sono Badel e Frendrup e poi si gioca con Gudmundson ed Aramu alle spalle di Coda. Si comincia in un clima di contestazione per i padroni di casa, settore del tifo più caldo campano vuoto con l'unico striscione. Meritateci, per il resto sappiamo che il Benevento nelle ore precedenti la gara era andato in ritiro e Cannavaro non aveva parlato nella tradizionale conferenza stampa. Dunque un clima pesante che il Genoa riesce a girare a suo vantaggio dopo una certa pressione da parte dei padroni di casa, piuttosto sterile nei primi minuti. Arriva la prima rasoiata del Genoa al minuto 11. Contropiede, grande ripartenza da parte del giocatore islandese che taglia la difesa del Benevento a fette e poi offre un assist in diagonale per Coda che supera il bravo Paleari. È il gol dell'1-0, è il gol che mette la strada in discesa per il Genoa di fronte a una squadra che in casa ha il secondo peggior rendimento interno mentre il Genoa conferma di essere la squadra più ispirata. Lontano da casa ci prova il Benevento con un tiro di Erel Quachivi che però non sortisce grandi effetti. C'è ancora una occasione per il Genoa con un colpo di tacco di Aramu che porta il grifone vicino al raddoppio come l'occasione di Coda in chiusura di primo tempo ma lo squillo più importante arriva alla mezz'ora con il palo di Gudmundsson con un tiro di prima intenzione da Football de Salon, palo interno e sfuma così il gol del raddoppio per il Genoa. Nel secondo tempo comincia un'altra partita, dobbiamo dirlo molto onestamente, primo tempo di qualità del Genoa con partita in mano, una partita che andava chiusa nel secondo tempo in assoluto. Al di là degli episodi diciamo un passo indietro. Sul piano del gioco Cannavaro cambia qualcosa nel suo scacchiere, fuori Karic e Ciano, dentro Simi e Teio e proprio Teio al tredicesimo della ripresa con un gran gol da fuori area, trafigge l'incolpevole Martinez per l'1-1. A questo punto c'è la girandola di sostituzioni, entrano Strotman, Sturaro, poi entrano anche Matturo che fa il suo debutto in rosso-blu insieme a Yalsin e poi al 69esimo la staffetta dei numeri 9 fuori coda dentro Puskas, è un Genoa piuttosto guardingo, è un Genoa che ha perso un po' il bandolo della Matassa di fronte a un Benevento che generosamente si affaccia dalle parti di Martinez, dobbiamo dirlo, senza creare grossi grattacapi a un Genoa che prova a giocare di rimessa ma senza tanti risultati. Due occasioni per Frendrup con un tiro da fuori area e poi a 5 minuti dalla fine lo stesso giocatore danese ha sulla testa la palla della vittoria però non riesce a inquadrare la porta campana da posizione nettamente favorevole. Quando sembra che tutto termini sull'1-1, proprio all'ultimo respiro, al quarto minuto di recupero, Sabelli conquista palla sulla destra, lascia partire un chilometrico cross dalla tre quarti per la testa di Puskas che si alza perentoriamente e schiaccia sotto la traversa, superando Paleari. Grande festa nel settore ospiti del Genoa con 600 tifosissimi presenti allo stadio Vigorito. È il gol vittoria, è il gol del 2-1, è il gol che lancia in orbita il Grifone dopo tantissima sofferenza. Direi in assoluto una nuova prestazione che va valutata molto positivamente per quanto riguarda la squadra di Gilardino. Certo è che una squadra con polso fermo avrebbe chiuso i discorsi nel primo tempo risparmiandosi poi tanti patimenti. Comunque va benissimo anche così, ancora una volta il Genoa trova un gol in zona Cesarini, lo trova con un suo attaccante e questo è sinonimo di grandissima personalità. Per quanto riguarda i reparti, i giudizi, diciamo che la difesa ha retto abbastanza bene, ricordiamoci che si giocava con la difesa a tre, positivo il debutto di Il Sancher, tenendo conto che il ragazzo non giocava da molto tempo, direi autoritaria la prova di Vogliacco che ha giocato centrale di difesa al fianco del solito molto positivo. Dragosin per quanto riguarda il centrocampo mi è sembrato un po' ancora in rodaggio Badel, più che sufficiente Frendrup, Sabelli al solito generosissimo, tanti errori ma poi anche il cross che è valso il pallone d'oro. Per il resto il Genoa in attacco ha giocato una partita sufficientemente fantasiosa, Coda ha ritrovato il gol ancora una volta, è il secondo gol consecutivo, sua azione per Massimo, senz'altro un dato da tenere in grande considerazione, un Coda che però insomma a giudicare dalla sua espressione non ha gradito il cambio per a Puskas, ma insomma ci sta. Per quanto riguarda poi il resto ho apprezzato anche il lavoro di raccordo svolto da Gudmundsson che più volte si è fatto il campo per andare a recuperare palloni e a dare una mano al centrocampo e invece Aramo pur volenteroso non è riuscito a incidere in proporzione al suo grande talento. Per quanto riguarda il Benevento, squadra senz'altro in difficoltà, squadra di buona tecnica, squadra che senz'altro saprà farsi valere, squadra che però vive un momento davvero complicato. La classifica, considerato che ieri sera c'è stato l'anticipo di Palermo vinto dai Rosanero contro il Bari e le partite si stanno susseguendo proprio in queste ore adesso con il Frosinone in testa a 42 per quanto riguarda il Genoa, secondo posto insieme alla Regina che ha superato la Ternana per 2 a 1 e poi si crea un certo divario con la quarta, considerato che il Bari si è impantanato ieri sera a Palermo dunque resta a 33, il Pise è stato raggiunto allo scadere dalla Como e dunque è a 30 e il Parma sale invece a 30. Per quanto riguarda dunque questa classifica naturalmente poi ritorneremo nelle prossime ore quando tutte avranno giocato 21 partite, per il resto direi che una giornata da catalogare senz'altro positivamente per una squadra che continua a inanellare vittorie, quarto successo consecutivo per quanto riguarda il Genoa della gestione Gilardino, 5 su 6, tutte vittorie, soltanto un pareggio ad Ascoli. Abbiamo terminato gli elogi per quanto riguarda un tecnico che sembra veramente nato per essere un allenatore vincente. È tutto per questo spazio dedicato a Benevento Genoa, dunque la prossima partita per il Grifone, sabato prossimo 28 di gennaio con inizio alle ore 16 e 15 allo stadio Luigi Ferraris arriverà un Pisa con il dente avvelenato per essere stato raggiunto proprio allo scadere dal Como. Apriremo poi anche una finestra sul campionato dei Serie B nel corso dei prossimi giorni, giusto per commentare tutte le emozioni di questo turno numero 21. Grazie per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata.